ultimo video di quest'oggi cari amici ebbene il calcio tranese sorride in questo weekend partiamo dalla seconda categoria girone a perché la sd città di trani gara finita poco fa bel tris 3 a 0 al top player minervino mentre l'ascoli satriano vince per 1 a 0 contro la polisportiva trani 2006 gli altri risultati canusium audac sansevero 3 a 0 elcia città di san nicandro 2 a 1 gioventù calcio sansevero united monte sant'angelo 1 a 0 virtus castelluccio sauri polisportiva san marco 1953 2 a 5 ovviamente le prime squadre a tre punti sono la polisportiva san marco il canusium la sd città di trani laccio lascoli satriano il gioventù calcio sansevero a 0 città di san nicandro trani polisportiva 2006 united monte sant'angelo top player minervino virtus castelluccio sauri audax sansevero andiamo all'eccellenza girone a barletta 22 contro alto tavoliere sansevero 6 a 1 corato calcio atletico vs 4 a 3 real city audace barletta 1 a 2 san marco in l'amis sostuni 2 a 3 vigor trani calcio contro timor tanua 4 a 1 al momento si sta giocando manfredonia contro unione calcio bisceglie la classifica vede al momento il corato in testa 7 punti a 6 la audace barletta a 4 lo stuni real city vigor trani calcio san marco manfredonia a 3 il mola barletta 1922 il team mortanova a 2 l'unione calcio biscelle a 1 l'atletico vieste a 0 l'atletico sansevero quindi su tre squadre due hanno vinto un anno abbas vedremo il prossimo fine settimana bene buon proseguimento a tutti e buona serata alla prossima ciao basta la vista buona